Una lite esplosa per futili motivi per uno zainetto che doveva essere restituito alla base dell'omicidio che si è consumato a Pernumia in una strada di campagna. La vittima, il 27enne marocchino, a Nuarel Gutaia, lunedì sera si sarebbe rifiutato di ridare uno zaino a Saneture, il suo coinquilino del Gambia. Avrebbero iniziato a discutere in maniera sempre più animata. Le urla sono state sentite da tutto il vicinato. Ad un certo punto il 27enne marocchino è uscito di casa a piedi. L'altro straniero ha afferrato un coltello da cucina, è salito in bici e lo ha raggiunto in strada dove lo ha ferito alla gola. Uno squarcio profondo che ha portato alla morte del marocchino in pochi minuti, giusto il tempo di chiedere aiuto e poi di accasciarsi a terra esanime. A quel punto il 25enne Gambiano è fuggito verso Battaglia Terme per raggiungere la struttura di accoglienza per migranti all'ex hotel delle Terme, il primo luogo che anni fa lo aveva aspitato al suo arrivo in Italia come richiedente asilo. I carabinieri lo hanno trovato nascosto dietro una porta di una stanza da letto. Gli altri stranieri che stavano dormendo non si erano accorti della sua presenza. I carabinieri hanno anche sequestrato la presunta arma del delitto, un coltello abbandonato in strada a pochi metri dal casolare, in stato di abbandono in cui vivevano gli stranieri. Il 25enne del Gambia resta in carcere in attesa in queste ore dell'interrogatorio di convalida del fermo.